Per questo episodio di Borghi in Amaca vi portiamo a conoscere una delle famose frazioni di Montignoso, il Cerreto. Ultimo abitato del comune che si incontra sulla strada che porta al cosiddetto Pasquilio, questa storica frazione offre viste mozzafiato sulla costa versiliese e Apuana, oltre che su Monte Folgorito e sul Monte Carchio. Frequentato da molti biker, gli abitanti sono molto legati alle proprie radici blucerchiate, come la squadra di calcio del paese, una tappa obbligata sulle Alpe Apuane.